ciao a tutti quest'oggi farò una recensione di un orologio venduto da mpm 24 un venditore su amazon è più precisamente l'orologio è la gente x vediamo cosa troviamo nella confezione nella confezione troviamo il manuale di istruzioni la card di garanzia e due adesivi trasparenti marchiati agent x ma passiamo subito all'orologio a prima vista sembra un bello orologio vediamo il quadrante è nero diciamo che è fresato molto molto bene i numeri romani sono messi perfettamente in linea e al centro delle ore 12 3 6 e 9 il quadrante del datario i numeri sono perfettamente all'interno del quadrante ricordo che un orologio al quarzo quindi ha bisogno di una batteria per funzionare il cinturino è in pelle il movimento è un movimento miota e la cassa e stelle stile cioè in acciaio precision moment limited edition il movimento miota notiamo anche che nel regolatore delle ore anche qui è presente il simbolo agente il simbolo x marchiato agent x nell'altra parte del cinturino e anche nella fibbia di chiusura che sono accortezze che non tutti gli orologi hanno la cassa e in acciaio la corona è in cromo cromata nera quindi più scura rispetto non so se si riesce a vedere rispetto alla alla cassa e il quadrante come dicevo è nero con delle dei giochi di luce grigi devo dire che è ben fatto è un bello orologio molto fatto bene a un peso abbastanza normale rispetto a questi orologi di questa fattura e soprattutto per il prezzo che ha è veramente fatto bene non mi aspettavo così 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 di qualità quindi non posso fare altro che consigliarne l'acquisto perché è un bel prodotto arrivederci a tutti